soffici anzi sofficissime queste focaccine preparate con le patate nell'impasto da gustare in purezza oppure come accompagnamento sono soprattutto buone buone per prima cosa cuoci una patata al vapore e quando è ancora calda schiacciala con lo schiacciapatate nell'impastatrice metti la farina il lievito di birra il latte io ho utilizzato latte d'avena olio extravergine d'oliva e la patata schiacciata aggiungi poi il sale ed impasta fino ad avere un impasto liscio ed elastico una volta pronto mettilo in una ciotola copri con un panno e fai almeno raddoppiare il volume quando l'impasto è ben gonfio sgonfialo e porzionalo io ho preparato con questo impasto 6 focaccine arrotonda poi per bene ogni porzione di impasto in un piatto metti della semola rimacinata metti il panetto e aiutandoti con i polpastrelli stendi la focaccina partendo dal centro verso l'esterno ricordati di eliminare tutta la semola in eccesso metti le focaccine su una teglia ricoperta con carta forno e fai riposare almeno un'ora e mezza aiutandoti poi con l'olio extravergine d'oliva riappiattisci le focaccine basta affondare i polpastrelli nella parte centrale di ogni focaccina inforna poi a 180 gradi statico per circa 25 minuti se potessi farti sentire il profumo e voilà grazie a tutti 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 grazie a tutti